No, però penso per esempio con primo passaggio, non voglio parlare del grande politica mondiale perché probabilmente non ne sono all'altezza. No, adesso non ti butti via però, no? No, vabbè, guardi, cerco di stare con i piedi per terra. Ma dico, ad esempio iniziare sbloccando tutti i soldi dei comuni del patto di stabilità per fare investimenti sulla sicurezza, penso sia un passaggio importante che si potrebbe fare in poco tempo senza dover andare a scomodare incontri a Parigi.